Ehi là! Ciao bambini! Come state? Guardate, volevo ringraziarvi personalmente perché ci seguite in tanti su YouTube. Non appena arriviamo ai mille utenti potremmo iniziare a fare tantissime live insieme a voi con tutti i nostri personaggi. E tu? Ci guarderai? Vero? A proposito, scrivete sotto ai commenti qual è il vostro personaggio preferito. Lasciate un like. Ah, a proposito, vi devo dire una cosa molto importante. Siamo anche su TikTok. Nella ricerca scrivete gli amici dei bambini. Potrete vedere tantissimi nostri video. Così, magari, ci potete seguire anche lì. Sapete? A me fa tanto piacere ricevere commenti e like da tutti voi. Perché vi prometto che risponderò ad uno, ad uno. Magari, se qualcuno vuole una piccola dedica, con tanti i nostri personaggi, la possiamo sempre fare. E sì, perché gli amici dei bambini si rendono a disposizione di tutti i bambini. Perché vi vogliamo bene. Mi raccomando, seguiteci sempre su YouTube. Lasciate tanti like e commenti. E poi, seguiteci anche su TikTok. Nella ricerca, scrivete gli amici dei bambini. Ok? Con questo video breve, 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 Topolino vi saluta e vi augura una fantastica serata. Ah! Mi sapete dire la mia parola magica? Ah, sì? Allora, scrivetelo nei commenti. Topolino vi manda tanti, tanti baci a tutti i bambini e a tutte le bambine. Ciao! Ciao!